Per pescare in focia, per pescare in mare, soprattutto le oratte, io utilizzo sempre il begatino. Begatino vivo, bello movimento, che possa sicuramente uscire facilmente dal pasturatore e naturalmente utilizzare dei pasturitori che possono essere adeguati, come per esempio in questo caso qui il round feeder, che lo sto utilizzando, questa è una confezione della 2, 1 sopra la mia canna, e ci permette di mettere all'interno dei begatini e li lasciare sul fondo. Un piombo sotto taglia molto bene l'aria. Sul lamo, coreano, muriddu, americano, tremolina, arenicola volendo, è sicuramente un'esca di mare, è un'esca che i pesci la conoscono e sicuramente si potranno anche riuscire a fregare quei pesci di taglia bella grossa che tutti vorrebbero prendere. Una mangiata difficilissima, però l'amo non si vede dalla bocca per cui, oppa là, il recupero sta il pontile, proprio in stile marittimo e comunque sul classico panchetto seduto.